della guerra venendo ai nostri tempi più recenti mi ha pubblicato un libro bellissimo Mediterraneo un breviario di uno scrittore di commerci, delle navi, delle città delle croci delle mezzelune, delle chippa che mondo stupendo e affascinante intriso profondamente di umano ci raccontava oggi lo sentiamo forse da, di drammi dove l'orrore cerca tutto il cuore immortale e pare che gli unici ponti di tutto il meeting e il grande aiuto con cui grazie anche alla storia di un intellettuale, di uno studioso ieri a tavola abbiamo pure Di Chomsky che per chi ha studiato queste scuole ha dedicato grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti e decisivo visti i tumulti e l'importanza del ruolo che possono svolgere all'interno dell'Unione Europea in particolare la creativa si sviluppa nelle diverse settore durante la riunione dei ministri degli esteri di ospitare la prima riunione dei ministri inoltre inoltre la Tunisia ha sostenuto le difese inoltre che nel quadro dell'Unione per il Noto ubicate al cuore grazie sono io che ringrazio grazie a tutti